Seconda vittoria casalinga per il Brescia, ma è proprio il caso di dire che questa volta vale il doppio. Superando il Como sul campo in classifica generale, gli uomini di Magna hanno fatto un grosso passo avanti verso la salvezza. Le rondinelle hanno dominato tutto il primo tempo, sbagliando conclusioni abbastanza facili, come questa con Torresani. Ma a forza di andare in avanti hanno trovato il gol. Iachini va sul fondo, mette al centro, Vecchi respinge, sella a serve di Biasi, tiro in collaborazione con un difensore e palla in rete. Nella ripresa il Como appare veloce e quadrato, cioè la squadra già vista spesso in campionato, ma ancora una volta deludono le sue punte. Per questo motivo Malgioglio corre seri pericoli solo sui colpi di testa. Qui è Nicoletti a tentare di sorprenderlo. Poco dopo, sul calcio d'angolo, sarà Fontolan a mettere il portiere bresciano nei guai ed è costretto a salvarsi in collaborazione con Salvioni. Agli uomini di Marchiora è mancato il tiro per poter sperare nella divisione della posta e alla fine il Brescia ha meritato i due punti di questo incontro spareggio. Grazie a tutti.